Due salvataggi in mare ieri mattina lungo il litorale di Eboli. Quello più difficile ha visto protagonista un ucraino cinquantenne che ha rischiato di annegare nel tratto di spiaggia libera adiacente Lido-Blue Beach. Solo l'intervento dei bagnini dello stabilimento e il personale della Security Point ha evitato il peggio. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Il secondo salvataggio è avvenuto prima delle 11. Providenziale l'intervento del bagnino della zona dei Banni Cinzia, Chi ha riportato arriva il bagnante.